Da sempre noi fotografi mettiamo tanta cura, tanto impegno, tante risorse per cercare di realizzare le immagini perfette, ma oggi voglio parlarvi di qualcosa che rischia di rovinarcele senza che nemmeno ce ne rendiamo conto. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia, mi capita di fare fotografie per lavoro e quindi mi capita anche di posprodurle, consegnarle al cliente finale e mi rendo conto se qualcosa va male lungo la mia catena di lavoro. Oggi sono qui a farvi un video proprio su questo argomento, ovvero una cosa in particolare che mi ha provocato dei guai e che mi sta provocando dei guai lungo il mio flusso di lavoro e quindi una cosa che rischia di impedirmi di consegnare delle belle immagini al mio cliente. Prima di addentrarci nel video io vi ricordo di iscrivervi al canale per chi non l'avesse ancora fatto perché vedo che molti di quelli che sono sintonizzati regolarmente sui miei contenuti non sono effettivamente iscritti al canale. Questo è un peccato, si può rimediare in maniera gratuita cliccando il bottone qui sotto. Bene ma veniamo al sodo dell'argomento di oggi. Noi tutti sappiamo che nel momento in cui realizziamo delle fotografie che cosa facciamo? Prendiamo la nostra scheda di memoria, la infiliamo nella macchina fotografica, facciamo le nostre fotografie, ovviamente tenendo conto del fatto che dobbiamo avere la batteria carica e dobbiamo aver rimosso il coperchio dall'obiettivo, però se riusciamo a fare tutto nella maniera più corretta torniamo a casa con le nostre immagini e siamo a cavallo, abbiamo in mano le foto perfette, potenzialmente le foto perfette, giusto? Sbagliato, perché c'è un piccolo intoppo che rischia di mandare a monte l'intera operazione. Ora io voglio farvi vedere alcuni oggettini che ho qui, spero che riusciate a capire di che cosa si tratta, questi sono lettori di memory card e il video di oggi parla proprio di questo. Ora io non faccio una recensione su questi prodotti, questi li ho tutti acquistati un po' su Amazon e un po' da MediaWorld perché sapete sotto le vacanze si rischia di non riuscire a trovare le cose. Il punto qual è? Ne ho già diversi, questi affari si rompono facilmente, è impossibile ritrovare il modello precedente perché sono, passatemi il termine, delle cinesate totali. Anche questa che è di Hama, Hama è un brand se ricordo bene giapponese che dovrebbe essere un pochino più attento a determinati aspetti soprattutto per quanto riguarda la fotografia. Eppure questo è il secondo Hama che io compro nell'anno 2023 il primo si è già rotto, nel senso che non funziona più, sono affari che continuando a infilare e togliere la scheda di memoria si usurano, si usurano molto in fretta perché sono appunto delle cinesate, quindi si rompono molto facilmente e quindi rischiano di lasciarci a piedi. Ora che problemi ho avuto io nello specifico con queste schede di memoria? Non queste che ho qui in mano, in generale con le schede di memoria che ho già in mio possesso, che si stanno rompendo un po' tutte. Che problemi ho avuto? Praticamente ho avuto due tipi di problemi. Il primo problema è una lentezza esasperante che va addirittura peggiorando, quindi io acquisto un nuovo lettore di scheda, questi sono anche bellini sulla carta perché qui abbiamo, a parte abbiamo il lettore più il loro cavetto per tutti quanti, ovviamente tre lettori, tre cavetti diversi perché mettersi d'accordo mi raccomando non lo facciamo. Sono carini perché questi qui sono tutti multi scheda, quindi abbiamo micro sd, mmc micro, mini sd, sd hc, xd picture card, mmc mobile, mmc plus, m2, ms duo, compact flash, le abbiamo veramente tutte. Tutti e tre questi lettori prendono tutte le memory card possibili e immaginabili, tranne forse le nuovissime oppure qualcosina della Sony, che Sony ha qualcosa di dedicato se ricordo bene, le prendono quasi tutte, quasi tutte. Il problema però qual è? Man mano che io li utilizzo mi rendo conto che dopo un po' di tempo, dopo un annetto di utilizzo diventano più lente, diventano più lente in lettura, per cui io metto le mie memory card dentro in queste trappole qui per tirare giù le mie immagini sul computer e il procedimento diventa via via sempre più lento, ci mettono sempre di più, a volte mi bloccano addirittura il procedimento, quindi io magari sto scaricando e a un bel momento mi si blocca proprio, io uso Mac, quindi mi si blocca il sistema operativo che non riesce ad andare più né avanti né indietro, devo fare un riavvio forzato, questo mi è successo questa settimana, è il motivo per cui ne ho comprate un po', perché ho detto io non posso rimanere senza durante le feste, se mi serve qualcosa ho bisogno che questa trappola funzioni, quindi ne ho comprate tre, almeno sto tranquillo. So che si tratta della scheda perché la stessa memory card su una scheda nuova non mi dà più questo problema, quindi io non capisco cosa ci sia in questi lettori di scheda, però io riscontro che dopo un po' di tempo cominciano a funzionare sempre peggio. E fosse soltanto un problema di lettura difficoltosa, uno potrebbe dire vabbè ma io le tiro giù in un altro modo, mi ingegno, trovo un'altra strada, un workaround, sì faccio me le scarico tutte con bluetooth sul cellulare, poi dal cellulare me le erdroppo sul computer, è una seccatura devastante senza contare che se ricordo bene la maggior parte dei device non consentono l'invio di file raw o dng, ma consentono l'invio solamente dei jpeg, quindi questo è veramente seccante, senza contare che ci metterei un'infinità a passarmele in questo modo, quindi è intollerabile questa cosa. Quindi secondo me questo è ancora il mezzo migliore che abbiamo a disposizione per gestire questo procedimento, anche perché io potrei anche collegare la macchina fotografica al computer in certi casi, non in tutti. Alcune delle mie macchine si possono attaccare, altre no, quindi non posso farlo sempre. Questo però è il metodo migliore secondo me perché io potrei avercela bisogno quella macchina fotografica, io potrei stare lavorando e potrei aver bisogno di scaricare le immagini da una scheda di memoria mentre continuo a lavorare con la stessa fotocamera con un'altra scheda di memoria, quindi queste sono indispensabili per me nel mio flusso di lavoro, mi salvano la vita, però devono funzionare. Vi faccio questo contenuto perché una delle ultime cose che mi è successa è che non solo era lento, non solo non ero contento, ma ho proprio avuto un problema. In particolare ho avuto un problema e ho avuto una gocciolina di sudore freddo qui sulla fronte perché ho avuto la brutta sorpresa di trovarmi delle anteprime all'interno di Camera Raw che sembravano irrimediabilmente compromesse. A me è già successo una volta nella vita, una volta, di trovarmi una foto, un file Raw, irrimediabilmente compromesso e sembrava proprio, aveva proprio questo aspetto, aveva queste macchie di colore un po' Kandinsky, un po', non mi ricordo come si chiamava quell'altro pittore che faceva le macchie. Insomma, questa roba che può essere gradevole, però chiaramente non è la foto che io devo consegnare al mio cliente. Una volta in vita mia, in uno shooting, mi si è presentata una singola immagine che aveva il Raw danneggiato irrimediabilmente in questa maniera. In questo caso, per mia grandissima fortuna, come potete vedere, non è danneggiata la foto perché nel momento in cui io la seleziono in realtà il Raw è sano. Quindi quello che è successo è che è corrotta l'anteprima JPEG. Il JPEG piccolino, quello di anteprima che viene visualizzato subito, è quello che è danneggiato. E infatti appena io vado ad apportare una modifica sul Raw viene ricalcolata l'anteprima e sparisce anche questo artefatto. Però questa è una cosa che può succedere e io non sono un tecnico, non sono un elettricista, non ci capisco proprio niente di queste cose, però mi hanno detto che quando si verificano problemi di questo tipo, se la macchina legge correttamente l'immagine, se l'immagine è stata scattata correttamente, se è solo in lettura sul computer che si presenta questo problema, il problema dipende da queste trappole qui. Quindi un lettore di bassa qualità può portarci a questo tipo di problemi. Io oggi vi ho detto che non vi recensisco niente, infatti credo di non mettervi neanche i link di questa roba perché tanto non la troverete più, perché queste sono cinesate e se anche io vi metto un link voi andate a cliccarlo fra una settimana e questa roba non c'è più e ce ne saranno delle altre uguali ma diverse. Quindi costeranno uguali, faranno la stessa cosa ma ci sarà un nome di un brand cinese diverso sopra. Il problema qual è però? Che questa roba, io non lo so se l'hanno mai fatta bene, se l'hanno mai fatta perdurare, non me lo ricordo neanche perché io le ho sempre rotte tutte queste cose, cioè si sono rotte da sole con il trasporto, con l'utilizzo, si sono sempre sfasciate tutte da sole. Il punto qual è? Sta diventando veramente difficile trovare dei lettori di scheda di qualità e quindi a questo punto vi chiedo anche, fatemi sapere nei commenti se qualcuno di voi ha un brand di riferimento a cui si rivolge per avere dei lettori di qualità perché francamente io su Amazon e nei negozi non ne sto più trovando, non trovo più brand con cui ero abituato ad avere a che fare, non fanno più i lettori di scheda perché non è più redditizio, me ne rendo conto, siamo in quattro gatti ormai che usiamo le schede ci sono solo gli smartphone in giro e quindi abbiamo tutti questi brand che però fanno dei prodotti chiaramente molto cheap, chiaramente non fatti per durare, chiaramente non heavy duty, non fatti per trasferire dei file pesanti in poco tempo e questa è una cosa che a me pesa, io vorrei un qualcosa di qualità per trasportare le mie immagini dalle mie memory card sul computer, per farlo in tranquillità, in serenità, per non danneggiare i file e per lavorare velocemente senza bisogno di stare lì a guardare la rotella che gira perché il lettore fa fatica a tirare fuori i dati in lettura dalla memory card. È una cosa che mi sta procurando qualche problema, adesso per un po' sono a posto perché ho la scorta quindi adesso con queste vado avanti per un altro annetto sicuramente, però a questo punto sono curioso e quindi sono io che vi faccio una domanda quindi stavolta sarete voi ad aiutare me, voglio sapere fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete un brand di riferimento perché qui abbiamo Hama che probabilmente conosciamo tutti, sulla qualità di questo lettore io non ho tanti dubbi, so che funzionerà benissimo all'inizio e che probabilmente farà la fine di quell'altro sempre Hama che è quello che mi sta dando problemi in questi giorni, quindi abbiamo un altro che si chiama Reporter che è un brand che io conosco già, avevo una loro borsa, non è malvagio, è un po' cheap però non è malvagio e il lettore in sé si presenta abbastanza bene, quindi vedremo come si comporta. E poi abbiamo l'ultimo che si chiama Zedela, non so cosa sia, è un brand non lo so anche di russo, di balcanico, non lo so dal nome, però le componenti non mi sorprenderei se fossero comunque cinesi, quindi non ho la minima idea di quanto durerà questa roba, spero che mi duri almeno fino alla fine delle vacanze, ma sì sono abbastanza sicuro mi durerà un annetto e spero un annetto senza artefatti, senza jpeg danneggiati e senza sudori freddi per il timore di non riuscire a scaricare correttamente il mio materiale sul mio computer. Come detto vi chiedo, fatemi sapere nei commenti se avete trucchi o suggerimenti, qualcuno magari che ne capisce di computer laddove io di computer non capisco niente, io li uso, sono un utilizzatore finale, ma di computer non ho mai voluto e continuo a non voler capire niente. Per cui se qualcuno di voi ha suggerimenti fatemi sapere, nel frattempo io vi consiglio caldamente se il vostro lettore di scheda vi provoca dei ritardi o vi crea dei problemi cambiatelo, perché queste trappole si rompono, si disintegrano e purtroppo non danno neanche segni di cedimento, sono ancora lì sembra che funzionino e invece poi ci fanno scaricare delle immagini danneggiate, magari anche irrimediabilmente. A questo punto io vi ricordo di iscrivervi al canale perché se avete comprato un lettore di scheda di scorta e vi ha salvato la vita a questo punto è solo merito mio. Lasciate anche un bel like a questo video perché comunque con l'algoritmo date una grossa mano se mi fate anche capire che avete apprezzato un determinato tipo di contenuto. Lasciatemi un commento per dirmi se vi piace questo tipo di contenuti o se volete contenuti specifici su qualcos'altro perché io leggo tutto anche se ultimamente sto rispondendo poco ma perché siete in troppi, quindi rispondo se c'è una domanda impellente, se mi dite guarda domani devo fotografare il matrimonio di mia figlia, che macchina fotografica devo noleggiare, allora lì cerco di rispondere tempestivamente, però chi mi scrive bravo bel video a me dispiace però magari gli rispondo dopo una settimana, non riesco più a essere così veloce, però li leggo tendenzialmente tutti. Quindi comunque fatemi sapere nei commenti se avete richieste. Io vi lascio con l'anteprima in sovraimpressione di un altro video che vi consiglio di andare a guardare perché è un video molto attinente a questi giorni di festa, ve lo lascio in sovraimpressione durante la sigla e io vi do appuntamento al prossimo video.